La Regione Toscana destinerà 6 milioni di euro al riequilibrio dei fondi destinati ai contratti dei dirigenti medici del Servizio Sanitario Pubblico. La cifra è inserita in un accordo presentato dal Presidente Enrico Rosse e dall'Assessore alla Salute Stefania Saccardi, insieme ai rappresentanti di tutte le sigle sindacali. I fondi serviranno a finanziare prestazioni aggiuntive, comprese quelle per ridurre le liste di attesa e le assunzioni del personale che deve sostituire coloro che sono andati in pensione o ci andranno con quota 100. In assenza di risorse e di accordi a livello nazionale e a livello regionale stiamo cercando di fare una serie di accordi con il personale medico e con il comparto in modo da riconoscere l'attività importante e preziosa che i tanti professionisti svolgono all'interno del nostro sistema e trovare una modalità per rivalutarla, insomma per valutarla al meglio. Il mio ringraziamento va alla dirigenza, ovviamente all'assessore e poi agli operatori sanitari, senza quali non si farebbe nulla, ma diciamo questo rapporto secondo me che oggi stabiliamo sarà fuoriero di tante altre cose positive e soddisfazioni. Presentando l'accordo il presidente Rossi ha annunciato che nel 2018 la Toscana è riuscita a risparmiare 80 milioni di euro sulla spesa farmaceutica attraverso prescrizioni più appropriate e l'uso dei farmaci generici, diventando anche su questo fronte una delle regioni maggiormente virtuose d'Italia. Grazie 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 Grazie